Come è nata l'idea di questo libro? Nasce dal verificare l'attualità e la cronaca politica a partire dall'anno scorso, da un cambiamento repentino, dal 2012. E' stato fatto uno scheletro politico di questo romanzo, che poi è diventato un romanzo. Tant'è che è un romanzo che ha delle particolarità, ha una leggenda primaria, una leggenda secondaria, ha delle note che in verità sono degli articoli di giornale. Non abbiamo la volontà di dire una verità assoluta, ma abbiamo la volontà di far leggere quello che è avvenuto nel nostro paese sotto una chiave di lettura diversa, che normalmente i telegiornali o i grandi quotidiani non danno. Questo è lo scopo di questo libro e il filo conduttore di questa storia. Cosa racconta questa storia? Da dove si parte? Si parte dall'incontro Berlusconi-Gheddafi nella famosa tenda dove ci fu tutto il cancan delle amazzone e dei cavalli di questo grande evento mediatico, che invece aveva altri risvolti, aveva dei risvolti che poi hanno segnato la storia del Mediterraneo ed oggi, più che in altri periodi, ne vediamo tutti gli effetti. Parla di una componente fondamentale nello sviluppo dei paesi, che è quella energetica. E da qui si dipana tutta la trama e tutta la storia.